Salve a tutti! Continuiamo lo studio sui dissipatori per componenti elettronici con la spiegazione di un metodo pratico per misurare la costante di emissività di un materiale. Prima di avventurarci nella spiegazione di questo metodo, è importante capire il perché abbiamo bisogno di misurarla e soprattutto perché non possiamo conoscerla a priori. Ritornando alle assunzioni teoriche che avevo fatto nel video introduttivo di questo studio, abbiamo che alcune di queste erano l'assenza di scambio termico per via conduttiva, la presenza di un coefficiente di scambio termico convettivo variabile è un valore di emissività costante. Queste assunzioni teoriche che abbiamo fatto, a quali conseguenze portano? Supponiamo di voler ricavare sperimentalmente questi valori di H e il valore di Epsilon soltanto con la misurazione della temperatura. Quindi che cos'è che facciamo? Supponiamo di partire da una temperatura ambiente di 20 gradi e portiamo il nostro dissipatore a una temperatura di 50 gradi. Conoscendo la potenza che noi stiamo immettendo in ingresso al nostro dissipatore perché è banalmente calcolabile facendo la moltiplicazione della misura di Volt e Ampere, sappiamo che questa potenza che sta uscendo è pari alla somma dell'aliquota dello scambio termico convettivo che dipende da H1 perché è funzione della temperatura più l'aliquota della potenza uscente per il raggiamento ed è funzione di Epsilon che però abbiamo detto essere costante. Successivamente aumentiamo la potenza che arriva al dissipatore e questo sale fino a una temperatura di 80 gradi. Quindi anche questa volta conosciamo la potenza che stiamo immettendo e questa sarà pari a un'aliquota uscente per via convettiva che sarà funzione questa volta di H2 in quanto il suo valore è cambiato perché è cambiata la temperatura più un'aliquota uscente dovuto all'irraggiamento che è funzione di Epsilon che però è rimasta costante e che quindi è uguale alla Epsilon della prima equazione. Se adesso noi andassimo a mettere a sistema le due equazioni ottenute otterremmo questo qui e come potete vedere purtroppo è un sistema irrisolvibile in quanto abbiamo tre incognite in due equazioni. e anche se andassimo ad aumentare i punti di misurazione quindi aggiungessimo punti intermedi di 60 gradi, 70 gradi, 90 gradi, 100 gradi quello che otterremo è un sistema di n equazioni ma in n più 1 incognite. quindi l'unico modo che abbiamo per risolvere il sistema è quello di rendere nota una di queste variabili in modo che il sistema si possa trasformare in un sistema di n equazioni in n incognite quindi determinato. E fra queste incognite quella che ci conviene misurare con altri metodi sperimentali è proprio la Epsilon, il valore di emissività del materiale per due motivi uno perché è costante per tutte le equazioni e due perché è più facile da misurare sperimentalmente rispetto al coefficiente di scambio termico convettivo. E com'è che si misura questo coefficiente di emissività? Ci sono diversi metodi con cui lo si può fare ma quello che useremo noi sarà il metodo del confronto ovvero supponiamo di prendere questo dissipatore dissipatore fatto in alluminio di cui non so niente del suo valore di emissività che cos'è che faccio? di questo materiale non so nulla però di questo sì ovvero questo qui avevamo già visto anche in altri video è un nastro di isolamento da elettricista e questo materiale qui ha una particolarità ha un coefficiente di emissività noto che è pari proprio a 0.95 e quindi che cos'è che facciamo? Sfruttando la simmetria del dissipatore andremo a mettere su questo lato, su questa faccia una striscia di questo nastro mentre quest'altra faccia la lasceremo libera dopodichè faremo dissipare a questo componente una certa quantità di potenza e andremo a misurare la temperatura con un termometro a infrarossi su questa faccia e su questa faccia ovviamente sfruttando la simmetria la temperatura che c'è qui dovrà essere uguale a quella che c'è qui e io col termometro termico imposterò il valore di emissività pari a 0.95 misurerò questa temperatura e per esempio uscirà 50 gradi dopodichè con lo stesso termometro andrò a misurare la temperatura su questa faccia e andrò ad effettuare un aggiustamento sul valore di emissività fino a quando anche su questa faccia non leggerò una temperatura di 50 gradi e quindi il valore di emissività di questo materiale sarà proprio pari a quello che imposterò sul termometro a infrarossi per poter leggere anche su questa faccia la temperatura di 50 gradi quindi adesso per fare una prova e per verificare anche l'attendibilità di questo metodo andremo a misurare quando vale l'emissività di questo materiale di questo alluminio, di questo dissipatore ecco qui il setup del test ho messo un amperometro in serie al MOS e un voltometro in parallelo al drain source sta dissipando circa 6 watt in questo momento la temperatura misurata con la termocoppia in questo punto è di circa 55 gradi e adesso con il termometro andiamo a misurare prima sulla parte col nastro come si può vedere impostando un epsilon di 0.95 abbiamo circa 65 gradi spostandosi sull'altra faccia è uguale vedete cambia leggermente qualche grado scende di 2 gradi ma la epsilon di questo materiale sarà di poco inferiore a 0.95 sarà uno 0.92 0.93 ma è quasi uguale al nastro e questo è possibile perché questo tipo di dissipatore in realtà l'ho ricavato da un infisso tagliando un pezzo di infisso ed era un infisso anodizzato e l'alluminio anodizzato presenta questo alto valore di emissività infatti ho già controllato su internet ed è possibile questa cosa ho montato un secondo mosfet su un secondo dissipatore con lo stesso setup di prima e la stessa potenza erogata quindi circa 6 watt e andando a prendere la temperatura sulla striscetta nera abbiamo circa 50 gradi se invece mi sposto sulla parte lucida vedete che cala drasticamente e 24 gradi al di fuori della striscetta nera quindi l'emissione di questo dissipatore di questo materiale di cui ho composto non è assolutamente 95 e prova ad abbassare portandolo a 0.55 e ancora continua a rimanere basso vedete questa volta il nastro nero risulta molto più caldo perché la Y è calata però invece la parte lucida continua a rimanere bassa calo ulteriormente continua a rimanere bassa mentre il nastro nero ovviamente adesso segna temperature totalmente sballate provo ad arrivare al minimo vediamo beh il nastro nero ora è a 200 mentre qui si inizia a intorno ai 30 gradi adesso la parte lucida non va sotto i 10 quindi questo materiale ha un ha un'emissione inferiore a 0.1 ha un'emissione inferiore a 0.1 e c'era da aspertarselo infatti se si nota ho scelto un dissipatore che era abbastanza lucido infatti vedete riesce a specchiare quello che gli sta intorno quindi è normale avere una Epsilon un coefficiente di emissione così basso come abbiamo potuto verificare quindi questo metodo di misurazione dell'emissività di un materiale sembra funzionare abbastanza bene si ottengono delle misurazioni abbastanza precise ovviamente non sarà possibile andare a spaccare il capello ovvero la cifra decimale ma è possibile capire se un materiale ha un'emissività alta oppure un'emissività bassa quindi per esempio nel caso di questo dissipatore abbiamo visto che il suo materiale fatto di alluminio anodizzato risulta avere un'emissività comparabile con il nastro nero applicato quindi intorno ai valori di 0.9 mentre per quanto riguarda il secondo dissipatore che abbiamo provato abbiamo visto che in quel caso l'alluminio di cui era composto di cui era formato era lucidato a specchio e quindi l'emissività era inferiore a un valore di 0.1 ovviamente ripeto queste non sono misurazioni molto precise però riescono a dare un'idea del tipo di materiale che abbiamo davanti molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima